finito wow niente crediti niente wow almeno questa run perché non so se ci sono più finali questo è il mio primo deus ex è carino come gioco non è male non è orribile perché deus ex in visible war è considerato il capitolo peggiore della serie deus ex pur non avendo di giocati sono conoscenza di questo fatto non è bruttissimo è veramente complicato come gioco è una trama veramente complicata infatti ad alcuni punti ho dovuto utilizzare addirittura la guida per riuscire a capire tipo qua cosa bisogna fare molto profonda molto da capire ti coinvolge è intrigante perché vuoi capire come vanno avanti le cose la cosa veramente brutta sono le meccaniche di sparo il fatto che non ti dia sufficienti colpi per sparare però è anche un po nell'ottica del gioco che è più un rpg che uno shooter però è frustrante perché se vuoi fare una run dove vuoi sparare sei limitato dal fatto che non hai sufficienti munizioni comunque non è orribile come gioco non so come siano gli altri quindi non posso dire che probabilmente gli altri sono meglio però mi è piaciuto un po frustrante soprattutto sulle parti dove ci sono le munizioni un po frustrante dalla capire cosa devi fare graficamente per il 2003 è un gioco abbastanza seccente per cui l'ho gustato molto bella l'ambientazione l'atmosfera generale un gioco interessante che se vi piacciono giochi di azione a tema sci-fi molto futuristici molto matematica di complotto così veramente è godibile come gioco come ho detto alcune parti dove non si capisce cosa devi fare se non fosse per le guida non sarei andato avanti e alcune parti dove non c'erano abbastanza munizioni per sparare e uno che vuol fare una run più action se trova limitato comunque un gioco interessante non costa veramente nulla quindi se vi piacciono giochi di questo genere se vi è piaciuto il walkthrough che ho fatto ve lo consiglio altrimenti c'è di meglio c'è altro tranquillamente vai passare per altri titoli questa è la mia è la mia opinione sul in merito al gioco